Visita a sorpresa era del sindaco di Modica Ignazio Abate all'ospedale Maggiore. Una visita inaspettata, quella del primo cittadino che ha preso subito la via delle cucine nel giorno scorso al centro e le polemiche per le condizioni di pulizia ed efficienza. Accompagnato dal direttore sanitario Piero Bonomo, il sindaco di Modica ha potuto constatare personalmente che le cucine sono regolarmente aperte e funzionanti. Abate si è anche soffermato ad assaggiare qualche pietanza, definita lo stesso squisita, e trovando la cucina pienamente funzionante, pronta a sfornare i 600 pasti giornalieri per gli ospedali sia del Maggiore che del Busacca di Scicli. Durante la sua visita al nosocomio Modicano, Abate ha avuto anche comunicazione dallo stesso direttore sanitario del progetto di ristrutturazione dei locali, già programmati lo scorso mese di maggio e che partiranno entro il mese di novembre.